Il settore del game design in Italia sta crescendo a ritmi travolgenti, si parla di un margine di crescita quasi del 20%, così dice l'ultima ricerca di Italia Creativa, ma è ancora un mercato relativamente piccolo, nel senso che l'intero mercato del game design italiano vale meno di 40 milioni di euro. E tuttavia, come dicevo, è un settore che sta crescendo rapidamente e che coinvolge un nuovo tipo di autore, un nuovo tipo di artista, che è l'artista multimediale, il game designer o il programmatore di videogiochi, che conosce linguaggi diversificati, linguaggi digitali, linguaggi della multimedialità e che viene allo IUN per esempio e può imparare fondamentalmente tutti i linguaggi lavorando con dei professionisti del settore, cioè gente che fa i videogiochi da oltre 20 anni, che ha ricevuto premi internazionali e quindi vogliamo offrire questa capacità non semplicemente di capire il videogioco, ma di saperlo fare, in linea con la logica dello IUN che non offriamo semplicemente una conoscenza, ma una conoscenza pragmatica, può essere applicata direttamente sul campo.